Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Il mistero sulla morte di Liliana Resinovic si fa sempre più complesso. Una nuova perizia ha stabilito che la donna sarebbe deceduta il 14 dicembre 2021, lo stesso giorno della sua scomparsa. Tuttavia, lo zoologo Bressi ha avanzato un'ipotesi che getta ulteriori ombre sul caso. Secondo lui, il corpo di Liliana sarebbe stato collocato nel boschetto dell'ex OPP di Trieste soltanto il giorno prima del suo ritrovamento. Le circostanze del ritrovamento del cadavere, avvenuto il 5 gennaio 2022, sollevano altri interrogativi. Il corpo e i sacchi neri che lo abbolgevano apparivano integri, come se fossero stati posizionati di recente. A complicare il quadro è un servizio televisivo di Mattino 5, che ha rivelato un dettaglio inquietante. Sulla mano di Liliana sono state trovate formiche morte appartenenti a una specie che, in quel periodo dell'anno, avrebbe dovuto essere in letargo. Non è tutto. Gli inquirenti hanno individuato tracce gialle, probabilmente di polline, sui vestiti e sulle scarpe della donna. Questo elemento suggerisce che il corpo potrebbe essere stato conservato in un altro luogo prima di essere abbandonato nel bosco. Sorprendentemente, non sono stati rilevati segni di attacchi da parte della fauna selvatica tipica della zona, come cindiali o volpi, un fatto che aumenta il mistero. Qual è la verità dietro questa intricata vicenda? Le domande restano molte, ma le risposte tardano ad arrivare. E voi? Cosa ne pensate?